Ciao a tutti! Nel video di oggi prepariamo insieme i pomodori sott'olio a crudo per le bruschette o per le insalate da preparare in inverno. Vediamo subito gli ingredienti. Per preparare la nostra conserva di pomodoro utilizzeremo dei pomodorini datterini che ho raccolto nel mio orto, olio extravergine d'oliva, origano, sale, aglio, basilico e aceto. Iniziamo subito tagliando i pomodori. Vediamo come. Dopo aver lavato ed asciugato per bene i pomodori io li taglio per il verso lungo in questo modo. I pomodori devono essere sodi e non devono presentare ammaccature. Dopo aver tagliato i pomodori io vado a condirli con questi ingredienti. Vado ad aggiungere dell'origano, del sale, dell'aglio che vado a tagliare a fette, basilico che vado a tagliare a coltello. Aggiungo un goccio d'aceto per creare un pH acido e dell'olio extravergine d'oliva. vado a mescolare per bene il tutto e inserisco i pomodori all'interno dei miei vasetti senza premere nulla. Aggiungo al mio vasetto dell'olio extravergine d'oliva. Vado a tappare metto in pentola e cuocio la mia conserva per 20 minuti dal bollore. Ci vediamo dopo per il risultato finale. Faccio bollire i pomodori per 20 minuti.